Come riconoscere quando al cinema vai a vedere un film di merda? Innanzitutto te ne accorgi da quanto è grande la sala perché a quanto pare più il film fa cagare più la sala è piccola e non ti danno neanche i popcorn, il caretto dei popcorn durante la pausa Oltretutto il prezzo dei popcorn al supermercato è meno di un euro al pacchetto Quando vai a comprare al cinema sono almeno 12,90 euro Un po' come comprare l'acqua al supermercato e l'acqua di Lourdes I biglietti durante la settimana costano 5-4 euro Il weekend invece costa 20 euro a biglietto quasi eppure il film ha lo stesso Cosa devo sapere? Cosa cazzo vi applaudite quando finisce il film? Non è che ce l'hai il registro e tutti gli attori eh? E comunque tutti quei cazzo di rumori che fate mentre mangiate i popcorn vi giuro su dio che prima o poi ve li faccio ingogliare